Hey piccoli steve benvenuti in questo nuovo video su rocket league Oggi ragazzi sono da solo e volevo portarvi una partita uno contro uno in competitiva Se mi vedete che non sono con gioco esteto è perchè volevo farmi questa partita così da solo E quindi andiamo a cercarci una bella partita in competitiva solitario E vediamo di impegnarci e fare del nostro meglio ragazzi Quindi vediamo un po' cosa riusciamo a combinare Ok ragazzi ci ha trovato la partita e via col turbo dai Allora ok cerchiamo se mi vedete che qualche volta magari non parlo è perchè cerco di impegnarmi Anche se in questo caso sto facendo un po' di cose Ok siamo entrambi professionisti per come la dice sul livello Ora il fatto di essere professionisti non vuol dire oddio che palo ho preso Non vuol dire che no questo non va bene Questo ho fatto una cosa che non andava Gliel'ho messa perfettamente in mezzo però io salto prima di lui ok Benissimo allora ok posso andare la colpisco Dimmi che non viene dimmi che non arriva perfetto Rete primo gol dopo dopo quanti secondi 46 secondi perfetto Quindi ok allora dobbiamo impegnarci ragazzi E volevo proporre No oddio che fortuna che l'ha presa male L'ho lisciata in un modo sinceramente brutto Proprio brutto alquanto No non l'ho presa non l'ho presa Aspettate gliela riprendo La porto sopra Ok no la tocca lui L'ha toccata lui ma ma no la ritocca lui no Ritorno 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 Allora allora in questo in questa modalità ragazzi si può Vedere diciamo così le doti da giocatore diciamo Cioè per dire nel senso che in 3 contro 3 Dato che si è in squadra Ognuno ci si aiuta e quindi vabbè qualche errore si può vedere sì con No mannaggia si può vedere sì con Oddio mi sto impappinando non capisco dove in che modo sono messo Via da qua Ok e perfetto questo fa retromarcia Cosa stai facendo No di nuovo palo Ah ho visto di nuovo il palo E mi sono un attimo panicato in quel momento Dai sta andando bene ragazzi sta andando bene Ok allora Volevo proporvi una cosa Ora non so se riesco a farla Perché già registrare da solo per me è difficile Perché trovare il tempo da impiegare per fare un video per me E alquanto difficilotto Siamo a 3 gol Perfetto Sta andando bene questa partita Comunque dato che qualcuno di voi mi ha detto che si è comprato Rocket League E vorrebbe giocare insieme a me o contro di me Comunque Questo Importante più che altro divertirsi in attimo Ho detto si potrebbe fare un 1 contro 1 Così almeno Ho anche un 3 contro 3 magari contro la squadra Jack, Steto e Gioco Non abbiamo un nome ancora Magari ce lo date voi il nome Non so io sto Ci sto pensando in questo Proprio in questo momento mi è venuta questa idea Dovete capire che questo video l'ho registrato circa due settimane fa Quindi l'idea di dare un nome al team mi è venuta in quel giorno mentre registravo E poi l'ho proposta anche a Gioco e Steto E loro già hanno fatto un video in cui ne proponevano appunto Proponevano un'idea del team Nel nome del team Nel video di gioco che vedete apparire qui a destra in alto su questa scheda Potete cliccarci e vedere i nomi che sono stati proposti E proporre anche voi dei nomi per il team Se no proponete anche qui nei commenti Così almeno facciamo capire che noi piccoli stiva abbiamo idee fantastiche Nomi fantastici per team fantastici Allora non voglio fare stupidaggini Quindi Jack non fare stupidaggini Jack continuo a fare stupidaggini No ecco Continuo a fare stupidaggini Mi faccio fare un gol in questo modo no Oddio che fortuna È andata bene È andata bene Ma non può andare troppo bene Quindi noi ci portiamo avanti Ok Questa l'ho tenuta in alto Questa la Sbatto contro il muro Ok Lui l'ha lisciata Le sta lisciando un po' Un po' parecchi Le sta lisciando eh Ok Allora no Dovevo lasciarlo Fare tutto a lui Ok Perfetto Grazie Grazie tante Me lo sono smarcato Eccola qua in mezzo Attenzione No l'ha toccata L'ha toccata Ok vabbè E va bene Allora io qua Quando vado in difesa Diciamo il mio punto debole Perché non riesco a ruotare abbastanza velocemente Lui che sta facendo Vabbè Vuoi prenderti una pausa Ok ti capisco Però se tu ti prendi una pausa Io ti faccio un altro gol E non penso che ti piaccia Non penso ti possa piacere Ok E via dentro Questo è stato un gol abbastanza banale Dai vabbè No Vincitore a tavolino No Lui è semiprofessionista Ragazzi ma ho giocato con dei semiprofessionisti Che sono davvero bravi Quindi il livello qua su Rocket League Oddio Stavo pensando che Lui non fosse bravo Invece è stato a FG Per un momento E questo Ok Va bene Nagio l'ho presa male L'ho presa male È brutto il tempo su questo stadio Ora farò il commentatore di questa partita E nulla Andiamo 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 amico Andiamo Hai la mia stessa macchina Oddio Mi ha spazzato via Mi ha spazzato via Non ho nessun turbo Però No Che liscio Che liscio Assurdo Assurdo Oddio Fortuna ho saltato Allora L'ho rischiata L'ho rischiata parecchio Io non so fare l'astronauta Come fa a gioco Però Diciamo che è una mia tecnica Così per dire Ed è quella Fale Fale la lete Subito Perché io sono cinese Ok Dai Bene così Allora 1 a 0 Vabbè Siamo ancora a 4 minuti Quindi C'è ancora tempo Per capire Chi è il più forte In questa Partita Davvero Combattuta E attenzione Jack se la porta via E aspetto lui Ah no no Dio non l'ho visto Sei blu Non ti ho visto Dio mio Non ti ho visto Con quel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Volo, 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 volo No, non ho nessun power E rimbalzo male Aspettate, aspettate No, no, l'ha presa, l'ha presa Già, ho fatto caso No, ho fatto una stubidata Dovevo ritornare subito in difesa Ok, attenzione Attenzione Via Ok Ok No, che sfiga Che sfiga Vabbè, scriviamo io pure il GG Così Per sportività E così Oddio, allora Forse ho scoperto un modo per fare i gol Ed è un modo figo Andiamo Via, 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 via Così Ok, no, non l'ho presa bene come prima Allora, prendiamo il turbo Non l'ho beccato Non l'ho beccato Non l'ho beccato Non l'ho beccato Via, via, via Tu non puoi stare qui Tu non puoi passare Tu sei Tu non puoi Io volo e tu no Non è vero Perché non so volare, ragazzi Su Rocket League non lo so Non lo so fare E il gioco lo sa Io non lo so E c'è già Sarebbe carino anche fare un uno contro uno No, 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 caspita Ho fatto Ho fatto male Ho fatto davvero male No, non so come ruotarmi Ok Ritorno, 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 ritorno Ritorno Via Uh È andato bene È andato bene Aspettate, aspettate Ehi No No, 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 no Ok 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 Ah Perché io cerco di prenderla Più di interno O di interno oppure di esterno Per appunto riuscire a No, ok Allora Vedato Dio Cosa sto facendo? Sembra che La porta dove devo andare Oddio Lo sto Lo sto di Di blando Dribblando In modo abbastanza Abbastanza Nabbone Tade Mettiamogli in mezzo E poi Lo chiudiamo Ok No, pensate Magari pensate che era una cosa calcolata Non l'ho calcolata affatto Però questo sì Rete Benissimo 3 a 1 Ok Piano Questo non posso mancarlo Eh, l'ho mancato Perché l'ha parata Aspettate Perfetto Comunque Volevo proporvi Se volete Se avete Rocket League E volete giocare I Volete giocare Io posso anche registrare il video Mentre giochiamo Ma è una cosa per divertirsi Non per Pubblicizzare canali O sponsorizzare È solo una cosa così Quindi In caso Vogliate fare un video Con me Io Sinceramente Non ho molto Tempo Però Se riusciamo a farci Una partita così Per divertirci Io Oddio No Oddio No Oddio Wow Che fortuna No Sono tutto ruotato male Attenzione Oddio Vai Ok così Boom Mamma mia Vi piace la mia macchina Così gialla? Mi piace parecchio Mi sembra una Vespa Non il motorino Però È figa Mi piace Allora È uscita anche l'auto Quella La Batmobile Di Di Batman Stranamente di Batman Però Non Non me la voglio prendere Perché l'ho già vista Da qualcun altro E Non mi piaceva Cioè nel senso Più che altro Vabbè Rossa fa veramente pena È orribile Inguardabile Però Cioè blu Magari Caruccia Però Non lo so Non mi attira molto Avrei voluto prenderla Ma Non mi attira Tanto Ok vabbè Ormai Io in questo momento Sto solo Perdendo tempo Aspettate Forse Se Chiedo troppo Fare un gol All'ultimo Ok Il secondo Più lungo Al mondo È Qui Bene Sforbiciato Voleva Che facessi Sforbiciata Bene Così Siamo Promittente Due Divisione Tre Ok ragazzi Direi che Per questo video Possa essere tutto Grazie per la visione Ditemi Se avete Rocket League E volete farvi qualche partita Possiamo fare un uno Contro uno Ci divertiamo Giochiamo Non lo so Un sabato Una domenica Ci mettiamo d'accordo E ci facciamo una partita Oppure facciamo magari Io setto e gioco Contro Voi Che magari Avete Rocket League E volete giocare E nient'altro Quindi Io vi saluto Spero che le partite Vi siano piaciute Noi ci vediamo Nel prossimo video Io vi auguro Un buon game Piccoli Steve Ciao